Cari fratelli e sorelle in Cristo, è il fratello Frank che vi parla dal Centro Missionario Internazionale di Krefeld, Germania. Che le benedizioni del Dio Onnipotente riposino su di voi è la mia preghiera. Che noi tutti possiamo riconoscere il giorno e la parola promessa per il nostro tempo. Abbiamo portato a termine delle grandi riunioni. Penso che abbiamo avuto la più grande folla. Quasi 1200 persone erano radunate qui nel Centro Missionario da tutta l'Europa e da oltreoceano per ascoltare la parola di Dio e ricevere le benedizioni dell'Onnipotente. Ho dato un resoconto del viaggio di settembre in un certo numero di nazioni nell'Estremo Oriente, a Burma, a Bangkok, in Vietnam, in Cambogia e lì nelle città di queste nazioni. E il Signore ha benedetto in modo potente. È meraviglioso vedere come il Signore chiama da tutte le nazioni e da ogni tribù. Poi, dopo il mio ritorno, abbiamo avuto delle grandi riunioni in Romania e per la seconda volta nella città di Costanza, nel Mar Nero. Abbiamo avuto pure più di mille persone che si sono radunate per ascoltare la parola di Dio. Siamo così riconoscenti al Signore per aver aperto le porte in tutte le nazioni e per aver aperto anche i cuori per accettare, per credere la parola promessa di Dio per questo giorno. Poi, in Giovanni capitolo 13, nel versetto 20, «Il nostro Signore ha detto, in verità, in verità vi dico, chi riceve colui che io avrò mandato, riceve me. E chi riceve me, riceve colui che mi ha mandato?». Cari, noi tutti siamo a conoscenza con il diretto messaggio, con la chiamata e l'incarico che il Signore stesso ha dato al fratello Branham. E qui leggiamo, «Chi riceve colui che io avrò mandato, riceve me». Prima che possiamo credere il messaggio che predica un uomo di Dio, dobbiamo conoscere e rispettare che questo è un uomo chiamato dal Signore stesso per portare il messaggio, per portare la parola di Dio. Giovanni Battista aveva ricevuto una chiamata divina, un incarico divino, e il suo ministero era una parte del piano di salvezza. E se leggiamo in Luca capitolo 7, qui sta scritto che tutti venivano pentiti e si facevano battezzare da Giovanni. Ma nel versetto 30 leggiamo, «Ma i farisei e i dottori della legge hanno reso vano per loro stessi il consiglio di Dio, non facendosi battezzare da Lui». Giovanni Battista era un uomo mandato da Dio secondo il consiglio eterno di Dio. E quando l'Apostolo Paolo dice, «Io vi ho annunciato tutto il consiglio di Dio». Così, cari, noi dobbiamo comprendere, tramite la grazia di Dio, che prima della seconda venuta di Cristo, la promessa doveva essere adempiuta. Ecco, «Io vi mando, io vi mando» e il così dice il Signore, «Io vi mando». E poi sta scritto, «Chi riceve colui che io avrò mandato». Se voi lo ricevete, ricevete il messaggio e ricevete le benedizioni di Dio. Ricevete me e ricevete colui che mi ha mandato. Cari, noi tutti siamo a conoscenza della chiamata diretta data al fratello Branham e vorrei leggervelo ancora una volta. Come Giovanni Battista fu inviato come precursore della prima venuta di Cristo, tu sei inviato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. Dobbiamo dire ancora, guai a chi cambia, guai a chi aggiunge, guai a chi toglie una sola parola. E dico questo con un rispetto divino verso le parole dirette che il Signore indirizzò al suo servitore William Branham. E io li ho scritte nella mia Bibbia che è davanti a me. fratelli e sorelle, questo testo è stato cambiato dai fratelli negli Stati Uniti. E questa è una maledizione che è venuta su tutti coloro che ritornano soltanto alle citazioni e non alla parola di Dio. E le citazioni vengono interpretate male. E tutti i fratelli fanno le proprie interpretazioni in merito ai tuoni, al ministero che ritorna, alla poligamia e in merito ai differenti temi senza ritornare alla parola di Dio ma dicendo sempre il profeta ha detto, il profeta ha detto. Il profeta ha detto soltanto ciò che Dio ha già detto nella sua parola. Ma qui veniamo al problema iniziale che è sorto ancora oggi in mezzo a coloro che affermano di credere il messaggio del loro. Cari fratelli e sorelle, se non potete credere parola per parola esattamente nel modo in cui è stato detto dalla nuvola soprannaturale, per favore fatevi la valigia e andate a casa. Voi non avete il diritto, non avete il diritto di affermare, di avere il messaggio dell'ora. Io leggo, qui sta scritto, il messaggio che ti è stato affidato sarà il precursore della seconda venuta di Cristo. Non che io sarei il precursore, ma il messaggio sarebbe stato il precursore. 9 febbraio 1959. Il Signore stesso l'ha detto e ha dato l'incarico. E la versione cambiata è, come Giovanni Battista fu inviato come precursore della prima venuta di Cristo, così tu sei mandato per precedere la sua seconda venuta. chi vi ha dato il diritto? Sia che vivete a Jeffersonville, a New York o a Tucson o in qualche altra città. Chi vi ha dato il diritto di cambiare l'espressione divina del mandato divino? cari fratelli e sorelle, è qualcosa di molto serio. Io detesto le menzogne, detesto le interpretazioni, non le posso sopportare. Soltanto la parola di Dio rimane per sempre. Ma siccome tutte le persone sono venute sotto questa influenza dagli Stati Uniti, non sotto l'influenza di Dio, ma sotto l'influenza di coloro che hanno conosciuto il fratello Branham, i quali dicono io sono andato a caccia con lui ed egli mi ha menzionato 21 volte, molti possono dire parecchie cose. Tuttavia una domanda. Chi può dire il Signore mi ha chiamato al ministero? Non è sufficiente sapere che Dio chiamò Giovanni Battista. Non è sufficiente sapere che egli chiamò l'Apostolo Pietro, Giovanni e Giacomo e anche l'Apostolo Paolo. Non è sufficiente sapere che Dio ha chiamato William Branham. Voi dovete avere un chiamato al ministero. Dovete conoscere un giorno nella vostra vita in cui avete udito la voce udibile, penetrante del Signore. E dico questo nel timore di Dio, nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Io credo l'espressione originale del mandato. Come Giovanni Battista fu inviato quale precursore della prima venuta di Cristo, il messaggio che ti è stato affidato sarà il precursore della seconda venuta di Cristo. Non come Giovanni Battista fu inviato come percursore della prima venuta di Cristo, così tu sei mandato per precedere la sua seconda venuta. Più di 55 anni sono passati. Da più di 50 anni il fratello Branham è con il Signore. E nel suo tempo egli non ha mai portato il messaggio in nessuna nazione della terra. Egli teneva soltanto delle riunioni di evangelizzazione. E dopo l'apertura dei suggelli, quando il messaggio fu dato al popolo di Dio e i suggelli furono rivelati, egli non ha mai più tenuto delle riunioni in un'altra nazione sulla terra. Ma i messaggi che egli predicava venivano registrati. E davanti al Dio Onnipotente io dico questo. Quando il Signore mi ha chiamato il 2 aprile 1962, proprio come voi udite la mia voce, mio servitore, mio servitore, il tuo tempo per questa città in breve sarà terminato. Io ti manderò in altre città a predicare la mia parola. E voi siete a conoscenza dell'immagazzinamento del cibo in merito al 3 dicembre 1962, quando il fratello Branham ha ripetuto parola per parola l'incarico divino e ha detto, fratello Frank, tu hai frainteso, hai pensato che ci sarebbe stata una tragedia naturale nel tuo paese e hai immagazzinato degli alimenti naturali. Ma Dio manderà una fame di ascoltare le sue parole. È il cibo che devi immagazzinare, è la parola promessa di Dio per questo giorno ed è contenuta nei messaggi che vengono registrati. E poi alla fine egli disse, aspetta con la distribuzione del cibo finché non ricevi il resto. Cari fratelli, devo ripeterlo di nuovo perché così tante differenti direzioni affermano di essere nel messaggio dell'ora. No e ancora no. Il messaggio dell'ora è nella parola di Dio. E se qualcosa non è scritta nella parola, allora è la vostra interpretazione, non la parola di Dio. Ma noi dobbiamo ritornare al fondamento originale posto dagli apostoli e dai profeti. Non possiamo aggiungere nessun insegnamento, non possiamo togliere alcun insegnamento. Noi dobbiamo essere restaurati nello stesso fondamento, nelle stesse dottrine degli apostoli. Ritorniamo all'originale inizio. Gesù Cristo è l'Alfa e l'Omega. Egli è il primo e l'ultimo. E come la Chiesa era al principio, così adesso essa viene restaurata. Perché questa è la parola chiave per la promessa dell'ultimo profeta. Io vi mando Elia ed egli restaurerà. Non aggiungere o togliere. Egli restaurerà, ricondurrà a Dio, alla parola, al fondamento originale. Cari fratelli e sorelle, siamo riconoscenti al Dio Onnipotente. La parola promessa, il messaggio di Dio, ha raggiunto le estremità della terra. Ora serviamo 172 nazioni direttamente, condividendo la parola promessa nella sua forma originale. Non abbiamo mai interpretato una dichiarazione che ha fatto il fratello Branham. Noi riportiamo tutte le cose nella parola di Dio e non c'è contraddizione. Ogni cosa è in armonia con Dio, con l'antico e con il nuovo testo. Così Dio sia lodato per aver mandato il suo servitore e profeta. E sono riconoscente al Dio Onnipotente anche per avermi dato una chiamata diretta, dicendomi io ti manderò. E cari fratelli, non dico questo per me. Ma se voi non potete accettare che il Signore stesso ha chiamato qualcuno per portare il messaggio fino alle estremità della terra, dopo che il fratello Branham è andato nella gloria, manca qualcosa. Qualcosa non va. Rimane ancora per sempre? Se io, il Signore, mando qualcuno, se voi lo ricevete, voi ricevete me. Ma se lo rigettate, rigettate me. Dunque, per la grazia di Dio, io sono il minimo, il minimo nel regno di Dio. Ma mi è stato dato il privilegio di portare il vero messaggio della parola di Dio fino alle estremità della terra. Che Dio vi benedica, il Signore verrà presto e la sposa si prepara per incontrare lo sposo. Dio vi benedica e sia con voi. Nel nome santo di Gesù. Amen. Grazie a tutti.